Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia, siamo noi. Io sono Gloria De Ambrogio, mi occupo di medicina veterinaria integrata. Armonia Animali nasce dall'esigenza di chi offre un certo modo di occuparsi degli animali e chi invece cerca un professionista in grado di consigliare in tal senso di incontrarsi. Quindi credevo nell'esigenza di questo gruppo e mi sono unita per questo motivo. Mi chiamo Ilaria Magnelli, sono la dottoressa in medicina veterinaria. Io mi occupo in parte dell'armonia era di alimentazione, dieta naturale. Faccio parte di Armonia Animali perché prima che fosse creato Armonia Animali mi sentivo diciamo un medico veterinario un po' quasi isolato. Io sono Maria Meyer, sono un medico veterinario, omeopata. C'è bello ritrovarci perché comunque bene o male chi si occupa di alternativo comunque ha una visione simile del mondo. Sono Betio David, un medico veterinario omeopata, da alcuni anni presidente della società italiana di neopatia veterinaria. Armonia Animali fa riferimento alla nostra società per i corsi triennali di omeopatia. Io sono Mara Di Noia, sono un medico veterinario. Ho scelto di non considerare più l'animale come cibo e ho approfondito molto l'argomento dell'alimento vegetale a tal punto da diventare una nutrizionista olistica. Io sono arrivata qui oggi e mi sono sentita a casa. Io mi chiamo Cinzia Ciamatori, sono un medico veterinario e mi occupo da tantissimi anni, ormai quasi da 15 anni, di animali esotici e non convenzionali. Io sono in Armonia Animali perché ho trovato una rete di colleghi che si impegnano da tantissimo tempo, spesso nel silenzio più assoluto e condividiamo una visione comune. Sono Alessandro Benvenuti, sono un medico chirurgo veterinario. Sono in Armonia Animali perché ho trovato tante menti pensanti. Questa Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Questa Italia che cambia, siamo noi.